Hanno manifestato davanti alla sede regionale della protezione civile per sostenere che l'emergenza sanitaria a Marghera non è solo il coronavirus ma anche l'inquinamento e che Marghera e i dintorni sono già abbastanza inquinati senza il bisogno di azionare il nuovo inceneritore di Fusina che si annuncia come uno dei più grandi del Veneto. Che genere di rifiuti arriverebbero? Arriverebbero non solamente dalla nostra area di smaltimento ma anche da tutta la regione. In particolar modo ci preoccupano poi i fanghi industriali perché contengono i pericolosissimi FAS vicentini. Contro il progetto dell'inceneritore di Fusina sono state raccolte oltre 10.000 firme più altre mille di genitori e nonni con la richiesta che vengano effettuati due biomonitoraggi che valutino lo stato di inquinamento dell'area. Uno sul latte materno delle mamme che allattano e quindi il primo alimento che i bambini andranno a ricevere e l'altro direttamente sulle unghie dei bambini un po' più grandi. Sono dei biomonitoraggi che non hanno un grande costo, sarà molto semplice farlo. Abbiamo già trovato i laboratori analisi che li fanno e purtroppo non abbiamo avuto risposta. A sapere qual è la situazione inquinante della zona vorrebbe dire capire se ha il caso di aggiungere inquinamento. I rappresentanti dei manifestanti sono stati ricevuti dagli assessori regionali alla salute Emanuela Lanzarini all'ambiente Giampaolo Bottacin e dal direttore regionale dell'area tutela del territorio Nicola Dell'Acqua. La proposta di biomonitoraggi sarà oggetto di un tavolo tecnico che si riunirà entro una settimana.